Buonasera, mi presento, sono Patrizia. Registo questo video, che è anche il mio primo video, per parlarvi di Claudio Manzone, fitness coach, che è il mio coach. Allora, ho conosciuto Claudio circa nove anni fa tramite i social, nel nostro caso specifico tramite Facebook. Ora vi parlo un attimo di me, giusto per farvi capire cosa è successo tra Claudio e me. Io ho 58 anni, ho sempre praticato sport, a livello amatoriale ovviamente, perché il mio lavoro era ben altro. Nello specifico nuotavo, sciavo, correvo, camminavo. Ultimamente il mio sport principale era camminare e nordic walking. Arrivavo anche a punte di 20 km al giorno di camminata, anche perché con la corsa mi affaticavo parecchio. Nonostante questo approccio allo sport, non avevo i risultati sperati, per cui più facevo sport, più mi stancavo, meno mangiavo ed ingrassavo. Alla fine mi sono anche iscritto, circa un anno fa mi sono iscritto in palestra, ma con le schede preconfezionate, dieci flessioni, leg curl, leg extension, la pressa, così. Le solite schede copie e incolla che vengono fornite a tutte le persone che si apprestano, si approcciano alla palestra. Un giorno, navigando in internet, mi sono soffermata sulla pagina Facebook di Claudio e ho notato una fotografia di una ragazza in bikini. La fotografia era prima e dopo, in un solo mese, un netto miglioramento. Devo dire che era già una bella ragazza ed era diventata ancora più bella, con un fisico veramente notevole. Ho mandato subito un messaggio a Claudio dicendo Claudio, potresti fare qualcosa anche per me, nonostante la mia età? Claudio mi ha risposto, perché no? E da lì abbiamo iniziato. Il percorso con Claudio è stato questo. All'inizio ho mandato tre o quattro fotografie mie, davanti, dietro, di lato, destra e sinistra. Non mi ha chiesto il peso, mi ha chiesto le mie abitudini alimentari e da lì ci siamo mossi. Mi ha mandato un allenamento di quattro settimane con le schede alimentari da seguire, allenamento e schede alimentari. I primi giorni sono stati difficili, non perché il cibo sia poco, anzi, ma proprio per entrare in questo metodo allenamento e cibo. Devo dire che dopo 15 giorni nello specchiarmi non potevo credere. E effettivamente dopo quattro settimane il cambiamento è stato notevole. E da lì non ho più lasciato. Sono esattamente sette mesi che mi segue. Ogni quattro settimane mi cambia la scheda, sia alimentare che di allenamento. E mi segue, la cosa più importante per me è che mi segue praticamente, pur essendo a 600 chilometri di distanza, pur non essendoci mai visti, io so che Claudio c'è, è sempre disponibile. Basta un messaggio, lui risponde immediatamente. E io mi sento protetta e mi sento tranquilla. So che non sbaglio, so che quello che faccio è corretto. So che il mio corpo continua a cambiare, nonostante la mia età. Per cui, grazie Claudio. Ciao.